...dello schema di contratto e di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie dello Stato Italiano e SPA e TELT, relativo alla sezione trasfrontaliera nella parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Avverto che l'audizione sarà trasmessa in diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Ringrazio il professor Yves Crozet per aver accolto l'invito della Commissione e gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione, ricordando che l'intervento dovrà essere contenuto in un tempo massimo di sette minuti. Prego. La ringrazio, Presidente. Spero che mi sentiate bene. Sono onorato di essere udito dalla Camera dei Deputati italiana. Cercherò di spiegarvi in pochi minuti come mai ho emesso sul progetto di collegamento ferroviario Lione-Torino un parere riservato, soprattutto su richiesta della Corte dei Conti europea, che ha chiesto a me e ad altri colleghi europei un rapporto su diversi progetti trasfrontalieri dello stesso genere. Vorrei dire semplicemente che capisco che questo progetto abbia motivazioni politiche, simboliche, europee e senz'altro questo progetto si farà. Penso però che questo progetto farà spendere tanti soldi per un risultato molto modesto. Non è una tragedia tenuto conto dell'attuale livello dei deficit pubblici, è piuttosto una commedia e vorrei tornare sui tre elementi chiave di questa commedia, di questa chimera, di questa illusione. Scegliete il termine che volete. Le tre componenti per me sono il fatto che il traffico merci in generale in Europa non aumenta più e soprattutto non aumenta né in Italia né in Francia. il passaggio dalla gomma al ferro in Europa non si farà nei prossimi anni e poi gli argomenti ambientali di sicurezza sulle emissioni di gas effetto sera sono sopravvalutati. Toccherò questi tre punti in sintesi il traffico merci che sia ferroviario o stradale oggi è stabile, stazionario in Europa, anzi in leggero calo. In Italia oggi il traffico su gomma è inferiore rispetto al 2007, parlo dell'Italia, quello ferroviario è più o meno lo stesso livello, un miliardo di livelli analoghi in Italia e in Francia e non crediamo che il tunnel potrà essere redditizio grazie a un forte aumento dei traffici. Siamo società deindustrializzate, di servizi, il volume delle merci è cambiato, non cresciamo più in modo significativo. Poi il passaggio modale, certo tutti i paesi dal libro bianco dell'Unione Europea, quello del 2001 e quello del 2011 cercano di passare dalla gomma al ferro, gli studi però dimostrano che ciò non è avvenuto. L'unico paese dove il ferro è andato avanti è la Germania, più 40% tra il 2000 e il 2018, ma questo risultato è stato ottenuto solo a danno delle vie d'acqua perché nello stesso tempo la parte modale della gomma non è cambiata. In Francia il traffico ferroviario è sceso del 40% dal 2000, in Italia è più o meno stabile ma si vede bene che il passaggio modale non avviene e a scala europea c'è un rapporto del 2018 in Commissione Trasporti, il passaggio modale non c'è e non avverrà. Ricordo che nel tunnel sotto la manica oggi il traffico ferroviario con i treni merci è due volte inferiore rispetto a dieci anni fa, parlo degli anni 2017-2018, prima della Brexit e nel tunnel sotto la manica 14 volte più merci passano via camion che sui treni merci. Questo ci porta al secondo argomento, i fautori del progetto del tunnel dicono che grazie ad esso avremo camion che saranno messi su dei vagoni, su una certa distanza fra Lione e Torino e questo permetterà di risparmiare molto CO2, qui purtroppo sono costretto a constatare che basta fare un calcolo, una moltiplicazione che non conferma queste stime, anche se si prendono stime, ipotesi molto ottimistiche, con 900.000 di camion su 1.400.000 che oggi prendono i due tunnel del Frejus e del Monte Bianco, anche supponendo che 900.000 camion prendano il treno. Siamo ottimisti, pensiamo che per ogni camion si risparmiano 300 km, moltiplichiamo per le emissioni unitarie di ciascun camion, si arriva a una stima delle emissioni di CO2 sette volte inferiori, dico sette volte inferiore ogni anno a quanto è previsto nel progetto Lione-Torino, cioè per coprire le emissioni iniziali di CO2 legate alla costruzione del tunnel occorreranno decine e decine di anni, ecco perché dal punto di vista dell'economista io penso che questo progetto oggi sia obsoleto, aveva senso negli anni 90, quando il traffico aumentava molto, all'epoca io lo sostenevo come direttore del mio laboratorio di ricerca a Lione, ma 25 anni dopo si può dire che il progetto è datato, è un progetto del secolo scorso. Vi ringrazio. Ringrazio il professor Yves Crozet, chiedo se vi siano deputati che intendano intervenire e in realtà ho già la richiesta di intervento dell'onorevole Serritella. A lei la parola. Grazie, grazie presidente, mi sentite sì? Molto bene. Grazie, grazie presidente, grazie al professor Crozet. Allora io avevo alcune domande da porre. La prima, potrebbe spiegare per cortesia se le previsioni di traffico indicate dai promotori della nuova linea Torino-Lione sono attendibili? Poi, il tempo di compensazione della CO2 derivante dalla costruzione della nuova linea Torino-Lione, tempo indicato dai promotori, è corretto sulla base dei traffici attuali? Terza domanda. È sul risparmio delle vittime della strada per riduzione di incidenti stradali derivanti dalla nuova linea Torino-Lione. Tali valutazioni sarebbero contenute nell'analisi i costi di benefici svolta dall'LTF TELT dell'osservatore Torino-Lione. Ci può spiegare se è fondata l'affermazione dei promotori? Ultima domanda e concludo. Cosa voleva intendere quando ha indicato poker di bugiardi, come scritto nella sua relazione, nei rapporti tra Commissione UE da un lato e Francia più Italia dall'altro? Grazie. Grazie a lei, onorevole Serritella. Chiedo se vi siano altri interventi. Mi pare di no, quindi darei la parola al professor Crozet per la replica. Prego. Grazie delle domande molto puntuali. Prima di rispondere nel merito vorrei spiegare che io ho avuto a che fare con il problema della valutazione del progetto Lione Torino quando ero presente come personalità qualificata nell'ente gestore delle infrastrutture. Lì sono stato dal 2008 al 2012. All'epoca facevo parte del comitato delle impegni che si è impegnato ad esempio ad aprire molte nuove linee ferroviarie. Questo per dire che io sono molto favorevole al sistema ferroviario quando gli investimenti ferroviari hanno un'utilità. Guardando gli studi condotti per giustificare il Lione Torino sono giunti alla stessa conclusione della Corte dei Conti francese. Diversi rapporti fatti da esperti in Francia su questo affermano, come emerge dalle sue domande, che anzitutto le previsioni di traffico sono estremamente esagerate. ricordo che il traffico ferroviario nel tunnel del Fregius era a 10 milioni di tonnellate trasportate nel 1990. Oggi, prima ancora dell'epidemia del Covid, siamo a meno di 3 milioni di tonnellate, quindi il traffico è diminuito di un fattore 3. Il traffico dei camion nel tunnel nel 2017-2018, epoca di forte crescita economica, era inferiore a quello che era nel 1990. Quindi si vede bene che le prospettive di traffico che ci vengono dipinte, 40 milioni di tonnellate al chilometro che potrebbero passare nel nuovo tunnel del Fregius, diciamo da qui al 2040-2050, sono cose esagerate. Non siamo più in quella modalità, non siamo più in un mondo dove il traffico merci aumentava di pari passo con la ricchezza nazionale. Oggi c'è uno sganciamento, aumenta la ricchezza nazionale, ma quando aumenta il traffico merci non aumenta più. Questa è la mia prima osservazione. La seconda, a partire dalla domanda sull'insicurezza, mi aveva colpito quando il dossier è stato presentato all'ente gestore. Mi si diceva dieci anni fa che grazie a questo tunnel avremmo risparmiato 6.000 morti, 6.000 vittime sulle strade francesi. Questo è oltremodo esagerato perché nella sezione autostradale che alimenta oggi l'attuale tunnel del Fregius praticamente non ci sono più stati incidenti mortali da dieci anni in qua. Quindi valutare in 6.000 il numero delle vittime risparmiate è una bugia, è una maniera di forzare la realtà nel senso che conviene ai promotori dei tunnel, idem per le emissioni di CO2. Perché? Per trovare i 2 milioni e mezzo di tonnellate di CO2 che sarebbero dovute risparmiare grazie al tunnel ogni anno. Anche qui si è dovuto manipolare le cifre verso ipotesi molto alte per il numero di camion che avrebbero usato il tunnel. Si è esagerato la distanza coperta da questi camion e si sono fatte ipotesi di 7 volte superiori alla realtà quanto alle emissioni di CO2 di camion. Parliamo di camion vecchi perché tra qualche anno i camion emetteranno molto meno CO2. Questo mostra che siamo in una situazione di manipolazione delle cifre che è corrente nel calcolo economico, però stavolta siamo arrivati a dei vertici. Grazie mille, Presidente Crozet, Professor Crozet per il suo contributo e dichiaro conclusa l'audizione.